Presta l'orecchio a questo, Giobbe, soffermati e considera le meraviglie di Dio. Sai tu come Dio allinea le nubi e come esse producono il lampo? Sai tu come la nube si libri nell'aria, meraviglia della consumata sapienza? Tu che hai le vesti calme, quando la terra langue per lo scirocco? Hai tu forse disteso con lui il firmamento duro come lo specchio di metallo fuso? Facci sapere cosa dovremmo dirgli. Noi non abbiamo parola a causa delle tenebre. Si dovrà informarlo di ciò che dico. C'è qualcuno che desidera essere annientato. Ed ecco, non si vede più la luce, è oscurata dalle muri, ma tira il vento e le spazzacchia. Dal settembrione giungono splendori dorali. Dio si circonda di tremenda maestà. È l'onnipotente che noi lo sappiamo raggiungere. Fugline, impotenza e rettiludine, grande per giustizia. Egli non opprime. Per questo gli uomini lo temono. Ma egli non tiene conto di coloro che si credono sapienti. Allora il signore rispose a Giobbe in mezzo al turbine così.